Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 12 agosto e parliamo di analisi ciclica voluta su Fuzzimib e DAX. Allora, per quanto riguarda il movimento di ieri, abbiamo avuto una potenziale chiusura di T più 1, ovvero di un ciclo che va dai 12 ai 21 giorni e che è un bisettimanale inverso, 1 e 2, è un 7 più 9. Abbiamo una divergenza ribassista per cui per oggi, visti anche i future che sembrano voler confermare, dovremo avere un'apertura a meno 100 punti e iniziare una fase discensiva per la partenza del secondo T più 1 inverso. Al contempo, sull'indice, dato che siamo arrivati già a 7 giorni, dovremo iniziare una fase di discesa che ci porti alla chiusura del primo di settimanale e che potrebbe riportarci verso il basso e eventualmente, se avesse una forza pari a, farci anche chiudere questo gap up, il gap up creato appunto ieri mattina. Se andiamo a guardare la giornata, vediamo che, peraltro, l'unico dubbio che viene è se qui abbiamo effettivamente avuto una chiusura qui di ottavo T meno 3 perché qui l'abbiamo avuta troppo presto in termini di tempo e anche in questo caso bisogna vedere da dove è partito il T meno 3 inverso se da alle 15 dopo un piccolo raccordo, quello delle 13 e 15, oppure meno anche perché nel caso fosse partito teoricamente dalle 13 e 15 sarebbe già vincolato a ribasso per l'inverso quindi rialzo l'indice, mentre invece per ora sembra che sia esattamente il contrario e dato che stiamo guardando appunto soltanto il future e quindi devono essere comunque confermati l'apertura dovrebbe essere in zona 20 e 100 ovvero la resistiva che abbiamo incontrato appunto ieri prima di dare un'altra scossa a rialzo tramite gli HFT tutto HFT, tutto HFT, ok per oggi appunto mi aspetto una spinta verso il basso di indice sia ritornare non solo a questa spinta a questo livello di resistenza ma andare decisamente sotto anche attorno orientativamente ai di 19.850 ma sarò più specifico quando ovviamente a chi mi dedica più tempo darò i livelli del mio algoritmo che sono stati decisamente interessanti anche ieri questo per quanto riguarda il Fuzzimib e per quanto riguarda un'ipotetica partenza da questo massimo da quello a 20.293 di un nuovo T più 1 inverso che ci porterà appunto in chiusura anche di T settimanale d'accordo? anche perché siamo arrivati al nonno T meno 3 quindi è tantissimo per quanto riguarda il DAX la situazione è molto simile anche se teoricamente il nostro decimo T meno 3 si è già vincolato a ribasso anche se non abbiamo confermissima che sia qua d'accordo ma se andiamo a dare un'occhiata possiamo vedere che da qui a qui abbiamo 33 bar da qui a qui ne abbiamo 23 quindi potrebbe essere già partito da qui se confermaremo un'apertura a meno 70 punti in area quindi 12.878 saremmo già a contatto con la media mobile a 50 periodi e dovremo vedere cosa a quel punto lì verrà fatto anche perché in base alla tenuta rottura potremo decidere i nostri trade sempre dopo le 10.01 anche per evitare di aggiungere rischi non necessari a quelli che stiamo già prendendo facendo trading in questi giorni estivi direi che altre cose particolari non ce ne sono qui abbiamo una sorta di shooting star ma non è una vera e propria shooting star è una roba ancora un po' strana però noi la vediamo così qui abbiamo un bisettimanale che può essersi chiuso a 16 giorni cioè con una durata media di classica sarebbe stato un 8 più 8 e adesso dovrebbe arrivare appunto spinta a ribasso verso appunto i 12.589 ma ripeto con l'algoritmo sarò più esplicito e avrò i livelli più interessanti in assoluto vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia sarà così perché ho già deciso che la voglio così